Siamo subito con il tecnico del Rimini, quest'oggi, vista la scolifica di Luca D'Angelo, Maurizio Drudi, vice allenatore dei Biancorossi. Un Rimini, diciamo, non bellissimo, ma oggi era importante portare a casa l'intera posta e quindi la missione è stata compiuta. Sì, credo che la cosa fondamentale in questo momento, qui per noi, poi per le squadre che si devono salvare, è cercare di fare punti. Noi abbiamo fatto anche delle ottime partite, magari in altri campi, ma purtroppo eravamo sempre venuti a casa con pochi punti. Oggi era importante fare i tre punti per noi, perché ci danno una grande speranza, una grande forza e magari sono arrivati proprio con una partita, forse non è stata una delle migliori, però, come dico, sia loro che noi non giocavano tranquilli perché la posta in paglia era talmente grande perché uno sconfitto dell'uno e dell'altra avrebbe sicuramente messo in crisi o uno delle due squadre. Fortunatamente abbiamo vinto noi e siamo contentissimi. Però vorrei, prima di tutto questo, ringraziare innanzitutto lo splendido pubblico perché in un momento così difficile, in una partita così difficile come quella di oggi ci ha sostenuto durante la settimana. Poi abbiamo avuto un incontro anche con i tifosi. Noi pensavamo magari, come posso dire, di essere rimproverati, invece ci hanno dato loro la carica proprio per poter disputare. Oggi è una partita che sotto l'aspetto della tensione, sotto l'aspetto della determinazione, è una partita che è stata vinta anche da loro. Un Rimini che ha cambiato modulo rispetto alle ultime domeniche, un Rimini che è tornato con la difesa 4, un 4-3-1-2 con Marras dietro Taddei e Morga in avvio di match. Sì, noi siamo partiti così perché volevamo dare un pochettino più di peso alla fase offensiva. La squadra, a mio avviso, ha già trovato col tempo, ha trovato un suo equilibrio e poteva giocare anche con questo modulo. qui abbiamo giocato i primi 20-25 minuti con Marras dietro le punte, poi dopo loro erano in mezzo, avevano una densità estremamente importante perché abbiamo deciso di spostare Marras a sinistra che è stata forse, credo, la mossa che ci ha dato il là per questo risultato. Un Rimini che ha perdito forte, poi ha trovato il gol proprio in chiusura di prima frazione e autore proprio il già citato Marras. Sì, Marras è un giocatore, un ragazzino giovane che ha delle grandi qualità, ha dei grandi colpi e oggi il gol che ha fatto è frutto di un grande colpo e siamo contentissimi anche di questo. In apertura la rinuncia a Baldazzi per la seconda volta di fila dopo che è stato lo staccanovista del Rimini dall'inizio del campionato e Valeriane che è finito in tribuna. No, noi siamo in tanti. Il mister credo che stia valutando il discorso di Baldazzi e di Valeriane di Baldazzi in modo particolare è il turnover perché ha fatto tutte le partite, è stato quello che ha giocato più di tutti. Come dico, noi abbiamo una rossa estremamente valida. Chi gioca in quel momento lì sicuramente il mister quando fa queste scelte qui le fa perché crede che sia o per dare un attimo di riposo a uno o per dare la possibilità a qualcuno di farsi vedere, però crede che li metti tutti sul stesso piano e noi crede che quando metti in campo una formazione sia sempre in quel momento la migliore. Tornando alla partita, nella ripresa il Rimini ha gestito il risultato. Non è stata una gran ripresa da parte di Biancorossi, però il Rimini si è difeso con ordine e di fatto non ha concesso quasi nulla agli avversari. L'unico errore di valutazione è stato quello di Ferrari che magari ha concesso quel pallone, quel cross, sul quale poi a posto di medio Andrea Brighi. Sì, queste sono le partite, praticamente, poi alla fine hanno finito in questo modo qua. Chi sta perdendo magari mette quattro punte, mette delle trovi davanti come hanno messo loro, ci condiscava il carico in centro campo, andrà a riprendere la seconda palle. Però noi, come a me è sembrato che al di là di un piccolo errore che abbiamo commesso dietro, noi forse di gioventù, un peccato di gioventù con Ferrari, sulle palle alte siamo stati bravi perché siamo stati molto attenti, siamo stati una squadra che oggi ha dimostrato di non aver commesso errori. Speriamo che questo sia praticamente poi quello che deve succedere anche nelle prossime nuove partite. A partire da Venezia, un Venezia che oggi era stato rimontato al 91esimo e poi è riuscito invece a spuntarla con Godeas a segno al 94esimo per lui doppietta e 2-1 in casa del Mantova. Sì, noi sappiamo che il Venezia ha una squadra fortissima dei giocatori che hanno trascorso, che sono giocatori veramente forti. Però, come dico adesso, noi fino a lunedì pensiamo a questa vittoria che per noi è una vittoria fondamentale perché ci permette di avere una grande speranza e di prendere fiducia in noi stessi. Poi da martedì cominceremo a pensare la partita di Venezia, cercheremo poi di, non dico di studiarla, però di prepararla nel modo giusto per poterli mettere in difficoltà. E' arrivata oggi Buglio, ben trovati innanzitutto. E' arrivato il quinto K.O. di fila per il Casale, una situazione di classifica abbastanza, direi, complicata. I numeri sono quelli, non li posso cambiare. Le sconfitte bruciano. Oggi pensavamo di fare bene qui a Rimini perché troviamo una squadra con gli stessi nostri problemi, fra virgolette, insomma, però a livello di partita non è stata una bella partita. Un'occasione, un Euro-Go ha cambiato il risultato, però penso che era una partita da 0-0, brutta partita. Sì, in effetti non è stata una bella partita. Avete provato poi nel secondo tempo a rimontare il gol di Marra, si è arrivato proprio in chiusura di frazione, senza però riuscire a creare troppi grattacapi a Scotti. Ma ne abbiamo avuti due importanti. L'asset è sbagliato da pane con i tre giocatori in aria e l'ultima occasione di Curcio che ha ciccato il pallone su quella semirovisciata. Penso che il risultato più giusto era un pareggio perché noi abbiamo impostato la partita togliendogli gli spazi a Rimini, a Taddei soprattutto e a Morga. Non avendo spazi loro fanno fatica e dovevamo giocare sulle ripartenze. Al primo tempo abbiamo fatto le ripartenze ma le abbiamo sbagliate, soprattutto quello con Figerotta che ha sbagliato il controllo. Poi per il resto mi dispiace della sconfitta ma a questo punto auguro un in bocca al lupo a Rimini perché ho tanti amici qui, gli giocatori che hanno lavorato con me e gli auguro la salvezza proprio sincera. Per il Casale invece a questo punto la strada è davvero difficile. Per il Casale dobbiamo domenica tornare a un risultato positivo anche per noi, per la città, per i tifosi e dobbiamo uscire a testa alta. Come oggi hanno lottato tutti, ripeto, una grossa ingenuità del nostro difensore ha creato l'angolo e poi questo Eurogo. però domenica dobbiamo fare una grande prestazione perché sennò sicuramente non è bello vedere una squadra che perde sei partite consecutive. In nostra compagnia il match winner di quest'oggi è il Romeo Neri, Manuel Marras. Allora Manuel, iniziamo proprio da quanto è accaduto al minuto 44 del primo tempo. Angolo di Taddei? Poi sono arrivato bene sul secondo palo col piattone. Enricchi spesso mette la palla sul secondo palo quindi è stato un ottimo cross e il gol senza C3-7. Esecuzione perfetta, 1-0, gol partita, gol pesantissimo perché vale tre punti fondamentali in chiave salvezza per il Rimini. Sì, sono tre punti d'oro, ripeto, la classifica è ancora brutta però sicuramente ci serve uno ad affrontare la settimana con un altro stimolo e domenica dobbiamo andare a Venezia a fare più punti possibili e senza timore. Non hai trovato troppo spesso la magra di titolare oggi hai ripagato appieno la fiducia proprio con questa prodezza che è stata fondamentale perché poi per il resto la partita è stata abbastanza bruttina. Sì, dai, io cerco di dare sempre il massimo oggi mi sta mandato l'opportunità e ho ripagato con questo gol. La partita è stata brutta perché eravamo tesissimi noi, tesissimi loro la classifica non ci aiuta però siamo riusciti a portare questi tre punti a casa che sono fondamentali. C'è una dedica particolare per questo gol? No, a tutte le persone che mi stanno vicino ma in particolare no, dai. Si è partito dietro Taddei e Morga poi la mossa praticamente dalla panchina abbia ancora si è stata quella di farti decentrare a sinistra e in effetti sei stato uno dei protagonisti gol a parte del primo tempo con le tue giocate. Sì, perché non riuscivo a trovare gli spazi dietro le punte poi mi ha spostato a sinistra magari mi trovo meglio sulla fascia che dietro le punte però dai, è stata bene lo stesso va bene così. Anche se il cross con il sinistro va migliorato? Sì, il campo non aiuta sicuramente però ho fatto dei brutti cross oggi. Adesso si va a Venezia per cercare di dare continuità a questo risultato insomma tra l'altro il tuo gol ha rotto un digiuno di tre partite in cui Rimini non aveva trovato la via del gol. Sì, tre partite che non segniamo ma creiamo sempre occasioni da gol oggi magari abbiamo creato meno occasioni da gol però è arrivato. Ripeto, domenica a Venezia bisogna andare lì per fare tre punti e poi vediamo cosa avviene. Riccardo Taddei oggi era importante vincere e Rimini è riuscito finalmente a muovere la classifica. Sì, è una vittoria che valeva troppo quindi anche se la partita non è stata bellissima c'era un carico di tensione troppo grosso in noi giocatori questa partita l'abbiamo giocata mille volte questa settimana quindi siamo arrivati molto nervosi era inevitabile perché era troppo importante quindi anche se la partita è stata brutta ci prendiamo questi tre punti che sono una grande boccata d'ossigeno. Hai avvertito un po' di emozione visto che per te era una gara da ex anche fresco visto che nello scorso eri a Casale? No, l'emozione non l'ho avvertita mi ha fatto piacere rivedere alcune facce quello di sicuro poi quando inizia la partita tutto finisce anche perché mi sono preso diversi calci diverse botte e ho notato insomma che la partita era stata preparata in maniera particolare per non farmi giocare quindi dopo dimentichi tutto hai solamente voglia che la tua squadra vinca e io sono molto soddisfatto del fatto che con grande cuore grande impegno siamo riusciti a portare a casa questi tre punti. Da situazione di calcio piazzato però sei riuscito a sfornare alcuni assist importanti per i tuoi compagni compreso quello che poi ha deciso il match per Marras. Sì, non ho fatto sicuramente una buona partita però a livello tecnico a livello di colpi non ho fatto una buona partita però mi sono sacrificato tanto ho cercato di sfruttare i calci da fermo per rendermi utile ci ho messo tanta corsa tanto impegno tanto cuore e in questo momento posso dare questo è ovvio che magari la gente si aspetta che risolva le partite da solo ma non è così facile in un momento del genere e quindi se non riesco a trovare la giocata di sicuro non mi faccio non mancare sotto il profilo dell'impegno del metterci sempre la gamba e del metterci la faccia quello fino alla fine A un certo punto ci eravamo un po' preoccupati nulla comunque di grave ti abbiamo visto poi rientrare in campo Non è stata non è stata una una botta tanto normale diciamo che l'ho pagata anche un po' a fine partita non sono stato benissimo perché mi girava la testa mi tremavano le gambe però il dottore insomma mi ha mi ha tranquillizzato mi ha fatto riposare bere avevo bisogno di un po' di zucchero e adesso mi sono ripreso tutto a posto Quanto è stato importante l'incontro con i tifosi avuto in settimana? Ma è stato fondamentale anzi io colgo l'occasione per ringraziarli non solo i ragazzi che sono venuti a parlarci in settimana ma anche la gente che è venuta allo stadio oggi perché a parte qualche mugugno di pochi individui tutto il resto della gente ha cercato di sostenerci e quindi noi non possiamo fare altro che ringraziarli perché in una situazione del genere purtroppo ci siamo trovati senza aspettarcelo tutti quanti e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per uscirne perché a fine campionato con un risultato positivo ottenuto cancelleremo anche le delusioni che purtroppo sono state presenti in questa annata che tutti si aspettavano diverse Andrea Brighi oggi per il Rimini era importante muovere la classifica con tre punti e sono arrivati tre punti pesanti quanto pesanti nell'economia di questo difficile campionato? parecchio pesanti perché comunque contro una diretta concorrente anche se anche se è dietro però comunque sempre temibile e importanti perché ci danno diciamo la consapevolezza dei nostri mezzi e ci danno prova che se vogliamo se mettiamo in campo tutta la cattiveria che abbiamo possiamo portare a casa tutti i risultati buoni un Rimini che ha corso pochi rischi quest'oggi in uno sei stato bravo tu a deviare in angolo dopo quel traversone di Pani malcalibrato se vogliamo che però è stato forse il pericolo maggiore dopo che Rimini si è trovato in vantaggio si sapevamo diciamo la forza comunque dell'attacco del casale perché un attacco a tre con tre punte rapide veloci tecnicamente molto abili e ci siamo penso ci siamo difesi bene anche con la difesa a quattro che è una novità diciamo però comunque l'abbiamo assimilata bene penso che ci siamo comportati abbastanza bene ecco in effetti questa è stata un po' la novità per noi se vogliamo sorpresa questo ritorno a difesa quattro in questo mezzo in cui è importante magari spingere di più da qui forse la scelta anche così perlomeno c'è la giustificata a Drudi e gli crediamo sì sì abbiamo iniziato da martedì a provare questo modulo perché comunque diciamo il mister ci ha dato questo input l'abbiamo in settimana l'abbiamo assimilato abbastanza bene e penso che comunque oggi abbiamo fatto abbiamo fatto bene anche con questo modulo nuovo che però ci ha portato tre punti quindi è già una buona cosa adesso pronto a Godeas che ha appena segnato una doppietta sì adesso abbiamo una settimana per prepararci a quest'altro attacco temibile e quindi lavoreremo duro per arginarli il più possibile